Sputo perforante, spade perforanti! Razzi laser! Ah vedi che baciello! Allora, ma chi è? Aprolo! Ah mozzare, ma che cazzo hai combinato? Come che ho combinato? Ho organizzato tutto. Da stamattina ho rimediato pure lo sforverino. E poi ho rimediato pure la macchina per andare a far furto alla banca d'agricoltura. Sta là. Ma che te pare che andiamo a fare una pina corta sì? Ma che te frega, risparmiamo pure noi. Glielo amo quel coso là, quel cazzo di coso, come si chiama? Il tazzametro. Ecco, vedi come si è intelligente? Ma chi mi ha fatto a fare a me come compice una mozzarella frasica come te? L'imortacci tua. Non dille parolacce, non dille imortacci tua che sono pure i tuoi, sa, che siamo cugina, capito? Aprova lui i carabinieri. Aprova lui ho fatto il nascondo in salita, ci penso io a cacciarli via. Ci ha messo il freno a mano? Non serve mica, siamo in salita. Ah, ecco. Dai, andiamo dretto, tanto la macchina si è fottuta. Ragazzi, lasser! Tu lo conosci un certo provolone? Che sta piccante di cognome! E tu lo conosci? Chi? Provolone. Io gioco al flippe. Ma chi ha conosciuto ma quel figlio della mignotta di provolone? Ah, e ora sai di chi parliamo? No, io dicevo per modo da dire, ma chi ha conosciuto ma quel cornuto di provolone? Guarda che io ti capisco. Tu lo conosci, avanti, parla! Ma che fa? Io sono tassi d'aro, io ho la macchina mia all'arte fuori. Questo è un bar da tutte personcine per bene, il lavoratore, ha capito? Pare che mi è stato a fare un processo. Come se quel bogliaccio di provolone si fosse nascosto dietro al bancone. Eh, un'idea. Così. Provolone, il nome della legge ti dichiaro in arresto. No, ciao. Mannaggia bello, ho combinato una cazzata da niente. Tassista? Tassista? Ma che ce l'ha come? Sì, la sua autovettura la si è requisita. Da chi? Da noi medesimi. Ah, beh, so contento che la legge carcera tutti sti delinquenti. Il tassi a vostra disposizione. Ti faccio vedere io, ti faccio. De sti delinquenti ne devono carcerare più nella vita. Poglio, tu ne riparlamo. A me gli dati mi fanno schifo. No, ma va. Vengilo. Dai, cammina. Andiamo. Ah, prego. Si accomitano. Che stanno commodi. Tassi sua, sei ingolfata. Ingolfata? Non è mica una Volkswagen Golf questa? Ma che hai capito? Sei ingolfata. Sarebbe come quando uno si mangia una mela cerba e gli sentò per culo. A questo si sentò padre carburatore. E mo che famo? E mo che famo? Ho proprio paura che bisognerà farla partire a spinta. Ma guarda come intelligente sto carabiniere. Mica ci avevo pensato. Adesso, se voi due scendete un momento, date una spintarella dietro. Questa parte come un razzo. Con forme? Con forme. Oh, stia attento a questo provoione che è un tipo pericoloso. Stia tranquillo brigadiera. Sto delinquente ci penso io. Ecco, date una bella botta forte, forte. Spignete, spignete, spignete. Arrivederci. Ferma. Fermate. Dove vai?